In tre anni abbiamo portato tre campionati italiani di atletica leggera master, perché no fare anche quelle di nostalgia sarebbe un altro evento importante, quindi sentiamo un pochino anche da parte di Gerardo Vagliani Lisi che fra le altre cose è un ex aretino quindi che crede molto nella nostra città. La manifestazione europea che sarebbe nelle nostre insenzioni poter organizzare ad Arezzo sono i campionati europei in nostalgia, cosa vuol dire? Sono una gara di 10 km su stato, una gara di mezzo, 21 km, gare di marcia, gare di corsa campestre, vuol dire avere dalle 3.000 alle 5.000 persone, atleti, prominenti, atleti, che poi c'è tutto il contorno, sapete il master vuol dire portare le famiglie interi. Quest'anno si è svolta da Alicante e lì è venuta l'idea di perché non cerchiamo di organizzare qualcosa in Italia, perché sinceramente in Italia si sta bene, infatti dicono che all'Italia mangeremo sicuramente bene. Io ben volentieri e quando ho proposto Arezzo alla federazione europea si è dimostrata favorevole, il problema è uno solo, mentre per organizzare una gara a livello nazionale, anche se il comune non appoggia, del tutto si può andare avanti. Per organizzare una manifestazione europea ci vuole sicuramente l'appoggio del comune di Arezzo. L'impegno che a questo punto di chiediamo proprio per l'amministrazione comunale è di prendere un impegno scritto perché si possa veramente ipotizzare questo 2020 importante. Sicuramente Arezzo lo merita anche perché negli anni abbiamo visto che è migliorato tantissimo dal punto di vista proprio anche della personalità che ha avuto Arezzo nel fare le manifestazioni di atletica e di prodotto, di corso su strada. Quindi se questo viene creduto, viene potenziato sicuramente possiamo riuscire a raggiungere qualche importante impegno.